Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Il Parco di Centocelle è un grande polmone verde di 126 ettari, secondo solo a Villa Doria Panfili. Si trova in una posizione strategica di cerniera fra ben tre municipi, perché è a confine con il settimo, il sesto e fa parte del quinto municipio. Oltre a essere un potenziale parco urbano, è anche un potenziale corridoio ecologico, essendo in continuità con il prato di Torre Spaccata e con il comprensorio Casilino. Questo rappresenta il cuore dell'antico predium imperiale, a Duas Lauros, del IV secolo d.C. All'interno di questo parco, che non solo rappresenta un'area verde di importantissimo valore, proprio come polmone su un'area densamente abitata, si trova un patrimonio storico, archeologico, unico al mondo per stratificazioni ed età che vanno dalla preistoria alla storia contemporanea. Penso che nel famoso Pratone di Centocelle uno dei fratelli Wright fece il primo volo in Italia con l'aereo a motore e la prima cinepresa registrò questo volo ed è ancora documentata e accessibile a tutti su internet. Questa è l'area del Campo Marzio di età imperiale. In questo parco risiedono tre ville di età imperiale, le più imponenti ville romane, una villa cosiddetta a Duas Lauros, di proprietà della madre di Costantino, Sant'Elena, che poi poco più distante risiede proprio il mausoleo di Sant'Elena, il famoso mausoleo di Sant'Elena e le casagombe di San Marcellino e Pietro, tra le più grandi in Europa. Qui è presente la villa rustica, la villa delle piscine, che è di nostro interesse in questa mozione, e che ha una lunghissima storia che va dal sesso secolo avanti Cristo al sesso secolo dopo Cristo. Sono stati trovati dei ritrovamenti preziosissimi di oggettissiche, materiali d'arredo, vetrofanie, dei cori in oro, ora che sono situati nella scuola statale Cante, che andremo a visitare nella prossima commissione di lunedì per parlare della progettazione e dell'attuazione dell'Eco-Museo Casilino, che riguarda poi anche quest'area. Sepolcri museale, il tratto sotterraneo dell'Acquedotta Alessandrina, il Forte Casilino dell'Ottocento, e questo, come abbiamo detto, è il primo grande aeroporto della Francesco Baracca, istituito subito dopo questo primo volo del Wilbur Wright, e insediamenti preistorici. Il canalone di Mussolini, dove fu creata una dei primi insediamenti metro che doveva andare a Roma Pantano, poi abbandonato lì, è una serie di gallerie poi utilizzate nella storia, sia come catacombe che come presidi militari. Insomma, la storia del luogo è veramente ricca, ricchissima di risorse archeologiche, molti studi sono stati fatti soprattutto dalla nostra sovrintendenza, che ha portato avanti delle progettazioni concrete e definitive. Abbiamo un vero e proprio progetto di museo di Centocelle, un museo ecologico innovativo che vorremmo vedere realizzato, e questo chiediamo in questa mozione. Però, nonostante questo, quest'area non ha impedito che ci fosse un costante processo di degrado, di abbandono, di insediamenti abusivi, e insomma, questo per una serie di criticità che sono ancora in essere su quest'area. Dagli incendi alle discariche delle fungaglie, che dopo essere state dimenticate per anni, perché non è che queste discariche si sono generate oggi in questa consigliatura, ma che per la prima volta l'amministrazione capitolina, l'assessorata all'ambiente, la commissione ambiente, insomma, si sono impegnati a bonificare, stanziando dei fondi proprio in questa fase di bilancio, proprio affinché ci sia riprissina ambientale di quest'area. Poi, insediamenti abusivi derivanti anche da un fatto di forte criticità, perché nonostante l'ampiezza e l'importanza di questo parco, ciò che si riscontra è la difficoltà all'accesso a quest'area, da tutti i municipi. I comitati territoriali sono molto attivi, addirittura hanno cercato di creare dei varchi tra gli autodemolitori, per arrivare al settimo municipio, e anche noi stessi, insomma, stiamo lavorando nel passato, abbiamo portato delle emozioni in tal senso, e lavoreremo in futuro anche nel progetto dell'Ecomuseo-Casilino. Questo per dire che noi già stiamo là, lavorando con quest'atto, per dire che è un problema molto complesso, e quindi sicuramente è necessario coinvolgere tutti i dipartimenti interessati, quindi dalla sovrintendenza, alla cultura, al dipartimento ambiente, all'urbanistica. Si sta già avviando un percorso per individuare dei capannoni, perché servono dei posti idonei per gli autodemolitori, perché quello che bisogna dire è che ci sono sì demolitori, autodemolitori che si trovano in una posizione regolare, ma ci sono autodemolitori che si rispettano le regole e hanno comunque volontà di spostarsi da questo sito, proprio per avere la possibilità di rinnovarsi, perché questi possono diventare una garanzia per andare verso il riciclo e il riuso dei materiali di scarto delle macchine. Quindi verrà creato sicuramente un tavolo che coinvolga il NOE, che coinvolga le case di produzione automobilistiche, proprio perché secondo le ultime direttive devono essere coinvolte nel processo dello smaltimento di questi materiali, per individuare luoghi chiusi, capannoni idonei, che possano essere tecnologici e possano rispecchiare una nuova tipologia di autodemolitori. Quindi con questo atto andiamo proprio in questo senso, perché chiediamo di adottare delle soluzioni definitive e arrivare, questo già si sta programmando, alla chiusura, alla dislocazione definitiva degli sfasci, che all'individuo, individuando dei capannoni chiusi, idonei, in zone idonee, in cui essi stessi possano essere tecnologicamente compatibili con l'ambiente e con... Ok, chiudo, presidente. e quindi chiediamo di sostenere questa mozione e di votare favorevolmente, anche per allocare nel nuovo piano di investimenti del bilancio di Roma Capitale le risorse economiche per sbloccare e attivare l'apertura della Villa delle Piscine e il museo antistante. Ovviamente l'azione ambientale con l'azione culturale dovranno andare in parallelo, questo è sicuramente il nostro impegno. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie. Grazie.